La Fondazione Identità Domani con il patrocinio di Regione Abruzzo e Provincia di Pescara hanno presentato questa mattina la DMC, Destination Management System, recentemente selezionata e finanziata dalla Regione Abruzzo a favore della società concertile Terre Pescaresi, e l'Info Day Bando Obiettivo Turismo. Parliamo di 5 milioni di euro, di un pacchetto complessivo che sta di 30 milioni di euro, il bando della parte di spesa, sono 5, per premiare quelle aziende turistiche che puntano sull'innovazione e sui servizi, in modo che il servizio turistico, il complesso del turismo abruzzese, venga visto sempre più come un comparto a tutti gli effetti dello sviluppo economico. Stimolare dunque le piccole e medie imprese che vogliono investire in iniziative legate alla creazione e allo sviluppo di servizi turistici a supporto dell'offerta locale, volti a favorire la promozione, la crescita e la competitività dell'Abruzzo come destinazione turistica di livello, sia in ambito nazionale che estero. C'è una mobilizzazione su tutta la Regione per far capire quanto la Regione sta facendo. Una Regione che non ancora possiede di risorse endogenee può solo ottimizzare le risorse che provengono dalla Commissione Europea e dal Governo centrale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore di Dalmazio, ha approvato recentemente il bando Obiettivo Turismo che permetterà alle piccole e medie imprese valutate, grazie a un contributo a fondo perduto di 50.000 euro che potrà rappresentare fino all'80% del costo, di realizzare investimenti in servizi turistici che riguardano itinerari di viste guidate attuati nelle modalità più diverse, nei centrostorici e in aree naturali, apertura e fruizione organizzata di luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico, informazione e assistenza al turista per la fruizione del territorio, quali segnaletica, service point, city web, call center, laboratori di pratica e conoscenza del patrimonio materiale e di materiale della Regione, fruizione del patrimonio naturalistico e culturale della Regione personalizzata per target specifici di utenza, famiglie, sportivi diversamente abili.